I look at you and it's easy to see, you are that someone I've been trying to meet Ciao a tutti e bentornati! Allora, oggi c'è un bel po' da riassumere, perché? Perché di cose ne sono accadute tante, troppe La prematura scomparsa di Veronica, che ha lasciato tutti noi senza parole, le conseguenti polemiche, anziché un rispettoso e doveroso silenzio Ma su YouTube le difficoltà, la morte, le disgrazie, sono viste come argomenti per imbastire delle live assurde E monetizzare il tutto, ad aprire il sipario su questo irrispettoso spettacolo c'è stata una prima live dal canale di Chiara Dal titolo, reali minacce di morte La prima cosa che ho pensato quando ho letto questo titolo è stata Ma allora quelle che hai detto di aver ricevuto prima erano tutte false? Punto di domanda Adesso però non ci perdiamo in congetture ed inoltriamoci in quello che è il racconto vero e proprio Allora la nostra figona cosa dice? Dice che due sere fa è stata contattata intorno alle 10 di sera da Eva che attualmente è sua amica La quale superata una titubanza iniziale l'avvisava che una persona, un fake, tramite Instagram l'aveva avvisata che Giuseppolo era intenzionato a vendicarsi per quello che era successo a Veronica In che modo? Facendo del male sia a Chiara che a Davide Nel frattempo che le due amiche cercavano di capire l'identità di questo anonimo I messaggi dell'SI, soggetto ignoto, erano spariti Per poi tornare con un lungo lunghissimo messaggio nella chat privata di Instagram dell'account di Chiara In questo messaggio l'SI raccontava a Chiara che Giuseppolo la scorsa notte si trovava in un locale Palesemente su di giri e sbraitava che l'avrebbe fatta pagare sia a Chiara che a Davide Pertanto invitava Chiara a fare massima attenzione perché? Perché Giuseppolo era ritenuto abbastanza pericoloso Chiara senza troppi mezzi termini lascia intendere che il suo ex compagno di vita, cioè Giuseppolo Fosse preso dai fumi dell'alcol e da ben altre sostanze Poi da Giuseppolo passa a Faith e qui i toni si fanno decisamente più accesi Ritenendola la causa principale dell'ondata di odio che stanno ricevendo sia lei che Davide Sempre Faith quella che a suo dire è solita coprire violenze domestiche e maltrattamenti su minori Di cui ha delle prove audio Ed addebita ancora a Faith il fatto che tanti utenti ritengono colpevoli lei e Davide della triste di partita di Veronica Ma torniamo a quello che è il racconto delle presunte minacce perché? Perché verso le 3 del mattino Lei riceve una chiamata anonima da un numero che non conosceva e lei risponde Dall'altra parte si è sentita dire con una voce abbastanza carica di odio Me la pagherai, io ti metto fine alla tua vita Ecco, e poi ha messo giù Voce che lì per lì non ha riconosciuto se fosse realmente di Giuseppolo Ma in mattinata ha contattato i carabinieri ed ha raccontato tutto l'accaduto Nel frattempo che lei interagiva con i carabinieri L'SI, il soggetto ignoto, aveva fatto sparire il suo account da Instagram Il maresciallo, ascoltata la storia, ha deciso di attenzionare non solo Giuseppolo Ma tutte le sue conoscenze Uno spiegamento di forze che manco quando cercavano Saddam Hussein Poi cosa ha fatto il maresciallo? Ha organizzato dei giri di pattuglia per tutelare la sicurezza della nostra nota youtuber milanese Verranno impiegate tutte le risorse possibili delle forze dell'ordine Esercito compreso per garantire la loro incolumità Ritorno più volte sul discorso che tanti utenti l'hanno etichettata come la responsabile della morte di Veronica E che doveva vergognarsi di aver proceduto legalmente contro una persona che era in evidenti difficoltà Si riserva dal fare le condoglianze ai familiari di Veronica per non apparire ipocrita Però non disdegna farla apparire come una ragazza che seppure in uno stato di disagio Nulla faceva per migliorare la sua condizione economica Beh, su questo dobbiamo darle atto perché è rimasta coerente con se stessa Nel senso che parlava male di Veronica prima quando era ancora viva E ne sta parlando male anche adesso che Veronica non c'è più Quindi adesso veniamo a quella che è la sua posizione legale L'avvocato dichiara, le ha dato l'ok a fare live monetizzate su YouTube Raccontando l'intera faccenda ma deve evitare di fare nomi Deve essere lo stesso avvocato che ha assunto dama Ma torniamo alla figona Ma adesso non ci perdiamo in sane riflessioni e torniamo alla nostra figona Che urla a gran voce di non aizzare Giuseppolo contro di lei Solo per mantenere alta l'attenzione verso i propri canali Accusa palesemente rivolta a Fate A cui tra l'altro viene dedicato un lungo monologo di offese E tutta la lista delle sue presunte malefatte Non disdegnando di lanciare esche per la sua utenza Il solito Se racconto certe cose Meglio che non parlo altrimenti ti distruggo Bene e questo era il riassunto della prima parte di live In cui grosso modo i protagonisti erano due Giuseppolo e Fate Nella seconda parte di live i protagonisti aumentano Perché? Perché trova spazio anche Marco Tito Reo ad aver fatto la sua comparsa nelle ultime live di Fate Anche Marco ha ricevuto la sua buona dose di Ah se parlo io fai attenzione perché comunque io Tutte le conversazioni, le chat, tutto conservato al momento giusto Tiro fuori tutto e ti distruggo Ora siccome lei lo fa spesso di tirare in ballo Marco Sebbene Marco non stia facendo alcun contenuto Però lei vedendolo lì ospite nel canale di Fate Praticamente lo attacca di continuo E a suo giro Marco non c'è stato Perché? Perché ha pubblicato un lungo commento Che va in risposta alla live di Chiara Che adesso vengo a leggere Sono rientrato ora da una scena Per l'ennesima volta mentre ero impegnato a godermi la mia serata Con i miei amici Sono stato nuovamente nominato Minacciato e diffamato Senza aver fatto nulla Io sono stanco di essere avvisato Che vengo tirato nel mezzo di live Da persone che pensano di fare i grandi Visto che mi trovo alle Canarie Ma avviso che ho deciso Dopo l'ennesimo spettacolo pietoso Di diffamazione nei miei confronti Che ho preso la decisione di agire legalmente Ma veramente non per finta Come fa qualcuno Domani mattina chiamerò il mio avvocato Che è in Italia E partirà una diffida Mi prenoterò un volo aereo Per andare a querelare Con le live che sono state salvate E registrate Tutte E che mi sono state mandate Perché stasera mi sono preso Del drogato Criminale Del gay Come se gay fosse una colpa Ora basta Abbiamo giocato Ma ora si fa sul serio Perché quando potevo rispondere Facevo live Era un conto Troppo facile ora che io non faccio Né video E né live E di conseguenza non rispondo A buon intenditor Poche parole Da questo momento Non parlerò più di chi Domani Verrà diffidato E calerà il silenzio Da parte mia Ne parleremo Nelle sedi opportune A differenza di qualcuno Che sta col culo a casa Io almeno degli amici Con cui uscire A bere E mangiare fuori O andare a ballare Li ho Detto questo Chiudo il sipario E vi invito Di mandarmi in privato Qualsiasi riferimento Venga fatto Alla mia persona Mandandolo a Fate Che mi passerà il tutto E verrà inoltrato Al mio avvocato Buenanoce A todos E questo era il lungo commento Di Marco Dove esprime Quella che è la sua opinione E la sua intenzione Mentre Fate Per tutta risposta Nella stessa giornata di ieri Ha aperto una live Dal titolo Chiara d'Alessandro È il sinonimo del male Una live Che è durata Oltre due ore Che ha totalizzato Ben 7000 visualizzazioni Siete curiosi di sapere Cos'è successo In questa suddetta live Bene Non vi resta Che seguire Il prossimo riassuntone Io per il momento Vi saluto Vi auguro Buona continuazione Di giornata Vi do appuntamento A quello che sarà Il prossimo contenuto E nel frattempo Che succede Tutto questo Un bacio a tutti Da Gossip E nel frattempo E nel frattempo E nel frattempo E nel frattempo Che succede E nel frattempo 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 E nel frattempo